secondo lei il quale posizione del campionato può arrivare la regina la palla vigna la palla a proposito di francesco se è vero posso raccontare poi un particolare su di francesco quando eravamo a cotronei sì che sembra che sia arrivato poi per caso quando è stato uno dei primi arrivati le sue buone prestazioni non possono dipendere solo dalle sue qualità c'è un gruppo che si muove che lo sorregge c'è un uomo di grande esperienza alle sue spalle che fa da vertice basso e che gli consente anche delle scorribande perché botta riesce non solo ad essere il tattico del triangolo di centrocampo ma riesce ad essere l'uomo di esperienza e che consente determinati equilibri ma credo che appunto il singolo si esalta se c'è il gruppo che lo sorregge detto questo io immagino di sapere già dove può arrivare questa questa squadra almeno in questa in questa prima parte della stagione ma soffermiamoci a quello che è l'obiettivo della società che è quello appunto di di poter raggiungere la permanenza in questo campionato magari una giornata prima della fine del campionato senza passare per i play out